Amici, sta succedendo una cosa molto grave e dovevo fare questo video per forza. Facebook sta nascondendo i post che segnalano le truffe, mentre dall'altra parte pubbliche regolarmente annunci sponsorizzati in cui sostanzialmente ci sono dentro delle truffe. Se voi segnalate quei post che contengono deepfake, che contengono phishing, che contengono varie truffe di vario tipo, investimenti, eccetera, vi risponde che non viola le policy, le loro policy. E la prova sapete qual è? Vostra stessa, che adesso qui commenterete sotto questo video, per favore, se vi è successo, in modo che facciamo vedere a tutti che questo è un problema serissimo. Peraltro tutto questo sta avvenendo su Facebook, paradossalmente, peraltro in una pagina, cioè la mia, che è penalizzata, perché mi hanno ridotto di almeno più di un decimo la audience, perché ovviamente ritengono che la mia pagina faccia divulghi truffe, in quanto le mostro, faccio vedere le foto delle truffe, e ogni volta che cancellano un post lo andiamo a disputare, cioè diciamo che non è vero, che non era corretto di controllare, loro controllano, lo ripubblicano e lo rirendono disponibile, però nel frattempo la pagina viene completamente penalizzata. Stessa cosa sta succedendo su Instagram, idem, anche lì segnarli, scrivetelo nei commenti se mi state guardando da Instagram, è molto importante farlo, perché la situazione è pericolosa per tutti, perché chiaramente se nei social network vengono divulgate truffe a pagamento, mentre chi vi vuole difendere non è visibile, è un problema. Seguitemi seguendo la newsletter sul mio sito camisanicalzoari.it, nel caso dell'Italia, e li trovate in descrizione, così li ricevete sicuramente, e almeno Whatsapp, che di solito fino a quando non lo bannano, cioè non mi bannano, almeno non c'è la audience che viene ridotta, perché se seguite il mio profilo su Whatsapp, potete ricevere regolarmente gli update su queste cose. Brutto, veramente brutto, speriamo che cambi, aiutateci, aiutatevi a cambiare questa situazione.